Blitz dei carabinieri a Gragnano. Sette fucili da caccia a provento di un furto commesso in un'abitazione appena qualche giorno fa. Erano nascosti in sacchi di nylon e in uno zaino mimetico. La scoperta è stata fatta in via Caprile. Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della locale stazione hanno notato le stecche a ridosso di un fondo agricolo, che però era senza recinzione. In un primo momento sembravano rifiuti, ma i militari dell'arma hanno voluto verificare. All'interno sette carabine per la caccia e circa 200 cartucce di vario calibro a palla spezzata. Le armi perfettamente funzionanti sono state sequestrate e saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue. Indagini in corso da parte dei carabinieri per verificare la dinamica dei fatti.